Il mondo vive un periodo di grandi cambiamenti, una rete globale senza precedenti che nasce nel cuore di Papa Francesco, basata sull'istituzione più cara e rispettata da tutte le culture, tutte le religioni e tutti gli abitanti del nostro pianeta. La scuola, pilastro delle civiltà e dei cambiamenti che perdurano. Se le scuole del mondo si frequentano senza tener conto dei paesi, dei popoli, delle religioni e dei regimi politici, potremo fra tutti aiutare a cambiare il mondo, per i bambini e con i bambini quali protagonisti. Perché nella base di ogni forma di discriminazione vi sono l'ignoranza e i pregiudizi. Per questo motivo è nata Scolas, per promuovere il rapporto fra tutte le scuole del mondo, perché condividano i loro progetti educativi attraverso il sito web di Scolas, arricchendosi reciprocamente e sostenendo in special modo le scuole con meno risorse. Scolas è la rete di scuole in cui il calcio e gli sport popolari mettono a disposizione le loro figure più importanti, in un gesto di solidarietà per collaborare al fine di un'educazione migliore per un mondo senza esclusi. Scolas vuole fare il chiasso, quello del cambiamento positivo, del lavorare insieme. L'ulivo è il nostro simbolo, Papa Francesco la nostra guida. La scuola e i bambini, il sinonimo di Scolas, una rete mondiale per costruire la pace attraverso l'educazione. La scuola e i bambini, la scuola e i bambini, la scuola e i bambini,